Bella! Sto andando a prendere le iso, siamo in ritardo di un'ora sulla tabella di marcia Ci aspettano tre giorni di surf oggi, martedì e mercoledì Let's go! Sono appena uscito dall'acqua, saranno tre ore e anche con buta, cappuccio, guanti e scarpette Ho iniziato a tremare, batte le denti Questo è il tempo fuori, è martedì, quindi il secondo giorno di surf e sono le 11, stiamo andando a surfare E' pieno di rifiuti Queste sono le cose più piccole e più bastarde perché gli animali se le mangiano Poi c'è ancora una siringa, piccola cannuccia, 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 un'altra cannuccia, 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 piccolo dinosauro, cannuccia, catera infrangente, cannuccia, mozzi con una di sigaretta Dieci minuti e un secchio di roba Terza giornata di surf e forse ci becchiamo il sole E' successo a tutti Grazie a tutti.